Vi voglio parlare del libro Non dirmi che hai paura di Giuseppe Catozella è stato pubblicato nel 2014 è un libro diciamo subito che fa molto riflettere sugli effetti totalmente negativi della guerra che impedisce alle persone normali di condurre una vita semplice ordinaria come quella di noi cittadini italiani si tratta proprio per questo di un libro scomodo politicamente scorretto in quanto prende apertamente posizioni contro la guerra Il romanzo è il lungo racconto di Samia Yusuf Omar e il romanzo descrive il lungo e sfortunato cammino della protagonista che da Mogadiscio in Somalia decide a un certo punto di andarsene e passa per Djibouti, per l'Etiopia, per il deserto del Sahara per Tripoli in Libia e fino al tragico evento dell'allegamento nel mare di Pantelleria in Italia Diciamo subito che il romanzo gioca molto sul contrasto tra il chiuso e l'aperto La passione di Samia, di correre, di sentire il soffio del vento e quindi l'aria che permette di respirare a pieni polmoni e che quindi è simbolo di libertà si scontra con il coprifuoco, con il lockdown imposto dai terroristi con i nascondigli assurdi in cui i migranti si trovano, ahimè, a condividere con altri simili ammassati come acciughe, come carro bestiame Uno degli effetti più tragici, più devastanti, descritto dall'autore dei effetti della guerra, sta nella rottura del rapporto di amicizia nato nell'infanzia tra Samia e Ali che da amico preferito di Samia che condivide con lei la passione della corsa al punto che diventa suo stesso allenatore lo stesso Ali si trasforma in terrorista e che si trova, proprio perché decide di arruolarsi nelle file dei soldati di Al-Qaeda si trova ad uccidere il padre della stessa Samia tutto questo avviene, l'autore lo spiega molto bene perché Ali ha ceduto, ha ricatto di diventare soldato tra le file di Al-Qaeda proprio per non poter più vivere in povertà in questo senso riesce a condurre una vita normale inoltre si può dire che leggendo il libro si avverte dall'inizio che a Mogadiscio purtroppo prevale e domina un clima di morte, un clima pesante come quando la stessa Samia racconta che la guerra può togliere le cose ad esempio a me ha tolto il mare più avanti Samia afferma quando parla della sua amicizia con Ali e dice che prima dello scoppio della guerra il cortile era il centro della vita di tutte le famiglie una sorta di agora di piazza ma che con la guerra purtroppo questo centro di vita, di raccolta, di socializzazione viene purtroppo meno eppure Samia non si arrende mai non si rassegna mai anche quando è costretta ad attraversare il deserto del Sahara in condizioni disumane in lei prevale la voglia di vivere di credere ai propri sogni senza mai sottomettersi a differenza dell'amico Ali nelle parole di Samia pertanto si sente un profumo di libertà di pulito, di voglia di andare avanti a questo proposito mi è rimasto impresso nella mente il momento in cui Samia arriva finalmente a Tripoli e si sente rinascere e scrive e poi a Tripoli c'è il mare è per questo che mi sono tornate le energie e la voglia di vivere e di stare bene così con il cibo è tornata la voglia di stare insieme di mangiare, di raccontare ognuno le proprie storie di disegnarsi il futuro a vicenda parlare, le parole salvano la vita e quindi un po' il ritorno alla vita nel cortile l'autore, diciamo, infine ha reso con molto efficace il dramma umano dei migranti che per sfuggire a un destino di morte trovano paradossalmente la morte lasciando così i lettori con la mano in bocca e con un certo senso di colpo in quanto noi occidentali in confronto siamo dei privilegiati in questa ottica l'autore mira a scuotere le nostre coscienze e a rimboccarci le maniche per costruire una società più umana e più civile